cari fratelli e sorelle buona giornata ci affidiamo al signore all'inizio di questo nuovo giorno chiedendo chiedendogli la grazia che illumini tutte le ore di questo suo nuovo dono nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen la pace sia con voi preghiamo con le parole del salmo 17 il salmo responsoriale della messa di oggi ti amo signore mia forza signore mia roccia mia fortezza mio liberatore mio dio mia rupe in cui mi rifugio mio scudo mia potente salvezza e mio baluardo invoco il signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici mi circondavano flutti di morte mi travolgevano torrenti infernali già mi avvolgevano i lacci degli inferi già mi stringevano agguati mortali nell'angoscia invocai il signore nell'angoscia gridai al mio dio dal suo tempio ascoltò la mia voce a lui ai suoi orecchi giunse il mio grido gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli cari fratelli e sorelle nella venerdì della quinta settimana di quaresima o di passione la pietà popolare fissa il suo sguardo su maria madre dei dolori maria è stata discepola del signore nel seguirlo fin sotto la croce oltre che ad essere stata sua madre e la pietà popolare ha conservato un'antica memoria quella dei dolori di maria in non poche città oggi se non ci fossero state le necessarie restrizioni per arginare il contagio ci sarebbero state manifestazioni di fede come le processioni della vergine addolorata noi vogliamo nell'intimità della nostra casa riascoltare quella pagina del vangelo che ci presenta maria presente accanto alla croce scusate la ripetizione dei termini ma soprattutto socia della passione del signore dal vangelo secondo giovanni stavano presso la croce di gesù sua madre la sorella di sua madre maria madre di cleopa e maria di magdala gesù allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava disse alla madre donna ecco tuo figlio poi disse al discepolo ecco tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé nel vangelo secondo giovanni abbiamo solo due pagine nelle quali è presente maria agli inizi alle nozze di cana quando lei accorgendosi che quella festa sta finendo male perché non c'è più vino dice al figlio non hanno più vino e gesù il rimando le risponde non è ancora giunta la tua ora e in quelle parole di gesù non c'è una presa di distanza nei confronti della madre ma un affidarli un ruolo nuovo infatti non la chiama madre mamma maria la chiama donna donna non è ancora giunta la tua ora e come se chiedesse a maria di reinventare quella che è la sua vocazione di essere madre di gesù e come se fin da quel momento gli prefigurasse una nuova vocazione essere madre di coloro che seguono gesù e infatti maria riappare possiamo così dire alla fine del vangelo secondo giovanni sotto la croce non dice nulla sembra quasi che abbia esaurito tutte le sue parole in quello che dice a cana ai servi fate quello che vi dirà ci bastano infatti queste parole di maria per vivere la nostra vita cristiana e per vivere il suo il nostro legame con lei ma il signore ci ha voluto dare qualcosa di più di queste parole che indicano la strada da seguire ci dice che maria stava presso la croce in alcuni momenti della vita non è importante quello che si dice neppure forse quello che si fa è importante semplicemente stare pensate che cosa si può fare accanto ad una persona che sta soffrendo terribilmente gli si possono dire anche delle parole di consolazione ma potrebbero risultare anche retoriche evane c'è bisogno semplicemente di stare stare fin quando quel dolore sia passato e maria sta accanto alla croce a raccogliere l'ultimo respiro del figlio non è sola ci sono altre donne potremmo dire il sesso debole che di fronte alla croce non indietreggia maria madre di cleopa e maria di magdala colei dalla quale si dice nel vangelo secondo marco erano stati cacciati sette demoni una persona cioè che era stata beneficata da gesù ma c'è anche giovanni che certo non è il discepolo più forte più coraggioso non è certo lui che ha promesso di morire per gesù davanti alla prospettiva della passione gesù allora vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava l'evangelista giovanni definisce se stesso secondo una grande tradizione della chiesa con questa espressione il discepolo che egli amava dice alla madre donna ecco tu figlio anche qui non la chiama madre la chiama donna perché d'ora in poi non sarà più semplicemente la madre di gesù di nazare la madre del figlio di dio fatto uomo ma diventa la madre di quel discepolo che egli ama che rappresenta tutti noi e poi dice al discepolo dice a ciascuno di noi ecco tua madre ecco tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé un'altra traduzione dice in una maniera più plastica più concreta potremmo dire l'accolse nella sua casa accogliere una persona con sé soprattutto se rimasta sola significa dargli anche un'abitazione e delle premure che abbracciano tutta la sua vita ecco perché noi veneriamo maria come madre della chiesa ecco perché oggi veneriamo maria come madre addolorata non semplicemente la madre che ha dei dolori ma che condivide il dolore del figlio suo ed allora condivide i dolori di tutti gli uomini e le donne della terra io ho sempre creduto che la grande devozione che il popolo di dio ha nei confronti della vergine addolorata è dovuta al fatto che la sente vicina proprio nell'esperienza del dolore sente che maria non è distaccata non è un palmo un metro o centinaia di metri al di sopra delle sofferenze degli uomini ma cammina con loro e possiamo dire condivide lo stesso dolore la stessa sofferenza che gesù cristo ha preso su di sé e mi piace riferirmi a un messaggio di papa francesco di alcuni anni fa del 30 luglio 2017 all'incontro nazionale dei giovani presso il santuario nazionale di aparecida ecco in occasione della giornata della gioventù nel brasile il papa radunò questi giovani a aparecida il santuario più noto di quella nazione noi sappiamo quanto il papa sia devoto di maria prima di ogni pellegrinaggio va al santuario romano possiamo dire quello per eccellenza della chiesa santa maria maggiore davanti all'immagine della salus popoli romani quella immagine per intenderci che abbiamo visto a piazza san pietro nel giorno della preghiera straordinaria e depone davanti a quella immagine una corona di fiori prega si affida a lei affida a lei i suoi viaggi apostolici e ci insegna che quella maternità di maria che è nata sotto la croce continua continua nella fede semplice delle persone e continua nella fede del successore di pietro maria veramente ha accanto a sé ha sotto il suo sguardo e sotto il suo manto proprio tutti e papa francesco facendo riferimento al santuario di aparecida spiega ai giovani chi è maria per gli uomini del nostro tempo e soprattutto per la generazione dei più giovani che forse ha bisogno di riscoprire la sua presenza nella vita cristiana il santuario di aparecida venera un'immagine molto piccola e semplice della madonna così il papa dice ai giovani cari amici tra le incertezze e le insicurezze di ogni giorno nella precarietà che le situazioni di ingiustizia creano intorno a voi abbiate una certezza maria è un segno di speranza che vi darà coraggio con un grande impulso missionario mi piace sottolineare il discorso che che guarda la speranza e alla missionarietà avere speranza non significa lasciar fare agli altri avere speranza e speranza significa avere uno spirito missionario cioè muoversi per primo per realizzare quello che il signore ci chiede lei conosce le sfide tra le quali vivete con la sua attenzione il suo accompagnamento materno vi farà percepire che non siete soli come in quel giorno non si sentì solo Gesù e non si sentì solo il discepolo che gli amava in questo senso vale la pena di ricordare la storia di quei poveri pescatori i quali dopo una pesca senza risultati nel fiume paraiba du sul lanciarono ancora una volta le loro reti e furono sorpresi dall'immagine spezzata ricoperta di fango di nostra signora prima trovarono il corpo poi la testa come commentai ai vescovi brasiliani nel 2013 il fatto racchiude un simbolismo molto significativo ciò che era diviso torna all'unità come il cuore di quei pescatori come lo stesso brasile coloniale diviso dalla schiavitù che trova la sua unità nella fede ispirata da quell'immagine nera di nostra signora per questo invito anche voi a lasciare che i vostri cuori siano trasformati dall'incontro con nostra madre aparecida che lei possa trasformare le vostre reti della vita reti di amicizia reti sociali reti materiali e virtuali realtà che tante volte sono divise in qualcosa di più significativo che possano convertirsi in una comunità quella comunità che è nata sotto la croce e che si chiama chiesa cari fratelli e sorelle quando guardiamo a maria e alle espressioni semplici schiette della spiritualità popolare noi vediamo che la chiesa è molto più grande di quella che noi pensiamo vediamo che a questa madre e in questa famiglia ricorrono tutte le persone che magari vediamo anche raramente nelle nostre chiese e potremmo dire la potenza della maternità che racchiude in sé questa capacità di fare comunità di inglobare tutti e allora quest'oggi cari fratelli e sorelle voglio invitarvi a pregare per la chiesa per questa comunità cristiana che è così grande e va al di là dei vescovi dei sacerdoti delle persone che magari vediamo sempre nelle nostre chiese ecco anche gli umili quelli che magari portano una catenina al collo con un'immagine di maria che forse frequentano di rado le nostre chiese verso di lei hanno un così grande affetto e io credo che quell'affetto possa costituire anche per loro una via di salvezza una via per sentirsi famiglia per non sentirsi soli per questo cari fratelli e sorelle questa mattina nei nostri pensieri ci sia tutta la chiesa ci siano tutti proprio tutti coloro che guardando a maria si sentono figli di dio e si sentono figli suoi figli di questa madre nel bello della riretta ecco vedete che sto cercando un'immagine nella quale c'è una preghiera alla vergine dei dolori se la trovo la reciteremo insieme altrimenti ecco pregheremo con la preghiera alla madonna di ripalta vergine bella madre dolcissima di ripalta nostra potentissima avvocata e protettrice il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi la tua immagine luce conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze noi perciò in te confidiamo stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'ofanto ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale fa piovere su di noi le acque della divina grazia perché vivendo qua giù la tua vita d'amore possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli lo speriamo e così sia salve regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo esso di figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria maria santissima di ripalta prega per noi maria santissima madre di misericordia prega per noi maria santissima madre addolorata presso la croce prega per noi san giuseppe prega per noi san pietro prega per noi san potito prega per noi san trifone prega per noi san clemente prega per noi san leone di ordona prega per noi sant'antonio abate prega per noi sant'antonio di padova prega per noi san francesco da paola prega per noi san rocco prega per noi e tu venerabile Antonio Palladino intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Vi ricordo cari fratelli e sorelle che questo pomeriggio alle ore 17 dalla parrocchia addolorata di Orta Nova trasmetteremo la via Matris e poi alle ore 19 dalla parrocchia di San Leonardo dove si venera Maria Santissima perdolente sarà trasmessa la Santa Messa da me presieduta. Che la benedizione di Dio entri nelle vostre case e vi illumini per tutta la giornata. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore vivete questa giornata con gioia e serenità.